Eccoci qua in Svezia, saluta, ciao, è impegnato in un'altra conversazione. Abbiamo appena finito di mangiare, Ugo finalmente sta dormendo. Ciao family, questo è Luca che sta divorando anche la pentola, saluta, ciao, questo è Ugo che scassa la minchia durante tutto il viaggio, questo è il nostro camperino, camperino, camperone, camperino, camperone. Qui si muore dal freddo, ci sono 10 gradi, c'è un vento che tra un po' fa volare il camper, però si sta benissimo. Siamo quasi ai confini con la Norvegia, stiamo tra la Svezia e la Norvegia e domani arriviamo in Norvegia ad Oslo. Ora per completare il quadro vi presento me stessa, non fateci caso eh. Si vede? Io mi vedo? Sì. Ciao, ciao. Bene, io adesso vi saluto, buonanotte. Adesso andiamo a Nanna, questa praticamente è una sosta dei camper, dove ci sono i camion, altri camper. Domani mattina sveglia presto che si parte. Un saluto anche da Ugo, un saluto da me. Ciao a tutti, mamma, papà, sorella, cognato. Ciao, Alessandrino! Guarda che... Questo è un video di una gara in Norvegia. Gara di ciclismo. In questo paesino. Oh! Tutti sventrano le bandiere norvegesi. Eccoli, forse arrivano, la polizia norvegese. Puliti. Wow, passano. Wow! Minchia quanti! Sto facendo il video, eh. Quattro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ti mando un video. Questo è dove noi questa notte dormiamo. Baci. Ciao. Questa è la fermata del Pullman. È una cosa fuori di testa. Questo è il mare dell'Elofoten. È bellissima. È bellissima. È bellissima. È bellissima. Ciao. È bellissima. Grazie a tutti.